Dopo il rinvio nei giorni scorsi della discussione in Consiglio regionale sull'ampliamento delle discariche di Lanciano, Cupello e Sulmona, il dibattito politico torna a incentrarsi sul tema dei rifiuti e della transizione ecologica e il provvedimento della Regione con la riprogrammazione delle volumetrie delle discariche torna in seconda commissione dopo lo stop delle opposizioni e di una parte della stessa maggioranza, tra cui anche Mauro Febbo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Ma c'è il motivo che parliamo di un ampliamento di tre discariche per ben 800.000 metri cubi, quindi una cifra importante per arrivare addirittura al 2032. Da quando la pratica è andata in commissione a quando è stata licenziata la commissione sono intervenute una serie di richieste da parte dei portatori di interesse dei territori, parlo di tanti sindaci, di tante organizzazioni datoriali, di tante organizzazioni agricole che vogliono alcune delucidazioni o addirittura in alcuni casi delle modifiche. Non sta a me entrare nel merito, abbiamo chiesto solamente una riflessione prima di ritornare nuovamente in consiglio. Credo che sia stata forse ricepita male la mia richiesta di rinvio in commissione. Io credo che si poteva tranquillamente, come è già avvenuto in altre occasioni, anche perché non è una cosa che scade domani mattina. Fino a marzo 2025 non succede assolutamente nulla, è chiaro che bisogna programmare per arrivare a fare qualche altra cosa, non è competenza mia fare la programmazione, vogliamo solamente confrontarci con portatori di interesse del territorio che ci hanno chiesto un attimo di incontrarci. La preoccupazione degli ambientalisti si appunta sulla perplessità di aumentare la volumetria di impianti già critici, ma anche per dirla con il consigliere regionale pente a stellato, Francesco Taglieri, sull'improbabilità di una discussione che va contro la propaganda sul futuro verde dell'Abruzzo, di cui l'assessore Campitelli si fa portavoce. Lo dicono quelli che sono sempre stati per il no a tutto, credo che se stiamo a parlare di ampliamento delle scariche è perché c'è stato qualcuno a cominciare di certi pseudoambientalisti, di certe pseudoorganizzazioni, di un partito del no, che poi improvviso adesso è diventato il partito del sì, no, mi ricordo no TAV, no TAV, adesso invece sono da sì a tutto. Credo che chi non possa affrontare questo tipo di argomenti siano proprio i 5 Stelle, così come tanti altri. Qualcuno dimentica che questa delibera è figlia di azioni fatti dal precedente governo regionale, quindi dal PD e compagni. Noi stiamo lavorando sulla nuova transizione, ci mancherebbe altro. Chiaramente c'è una scadenza, lo ripeto, che è il 2025, che è dopo domani e quindi dobbiamo assolutamente portare a casa degli adempimenti.